Abbiamo assistito stamattina grazie all'intervento di Modatec a questa opportunità fornita ai ragazzi e ai giovani delle scuole e delle scuole professionali che hanno potuto verificare qual è il rapporto, il rapporto importantissimo tra design e tecnologia, il rapporto tra qual è il percorso che si realizza in un processo di sviluppo di un prodotto tant'è che il convegno ha il sottotitolo direi, idea, prodotto, comunicazione e vendita. È proprio tutto il sistema totale che fa capire ai giovani che il tipo di lavoro non è solo quello della progettazione, dell'idea, dell'essere magari stilista o designer famoso ma anche quello di confrontarsi col mondo dell'azienda, con le imprese e oggi c'è stata questa grande opportunità. Io credo che i ragazzi abbiano veramente capito qual è il percorso da seguire per chi vuole intraprendere questo tipo di lavoro. Grazie a tutti.